Gli dèi mettono ai voti la nostra morte. Volare era già una brutta cosa per un figlio di Poseidone, ma volare direttamente nel palazzo di Zeus, con i tuoni e i fulmini che vi turbinavano attorno, era perfino peggio. Sorvolammo Manhattan a sud di Central Park, compiendo un'orbita completa attorno al Monte Olimpo. C'ero stato solo tre volte prima di allora, salendo in ascensore fino al 600esimo piano segreto dell'Empire State Building. Stavolta, se era possibile, l'Olimpo mi lasciò ancora più impressionato. Nell'oscurità del primo mattino, torce e fuochi facevano rilucere i palazzi abbarbicati alla montagna di venti colori diversi, dal rosso sangue all'indaco. A quanto pareva, sull'Olimpo non si dormiva mai. Le strade tortuose erano piene di semidei, spiriti della natura e divinità minori che si affaccendavano a bordo di carrozze o portantine trainate da ciclopi. L'inverno non sembrava esistere lassù. Colsi il profumo di giardini in fiore, di rose, gelsomini e di altre cose ancora più dolci che non avrei saputo nominare. Una musica lieve di lire e flauti di canne si levava da molte finestre. Sulla vetta della montagna troneggiava il palazzo più grande di tutti. La candida e abbagliante dimora degli dèi. I pegasi ci depositarono nel cortile esterno, davanti a enormi porte d'argento. Prima ancora che potessi anche solo pensare di bussare, quelle si aprirono da sole. «Buona fortuna, capo», disse Black Jack. «Già. Non sapevo perché, ma avevo un brutto presentimento. Non avevo mai visto tutti gli dèi insieme. Sapevo che ognuno di loro avrebbe potuto polverizzarmi all'istante e che ad alcuni non sarebbe dispiaciuto affatto. Ehi, se per caso non torni, posso usare la tua capanna come stalla?» Mi limitai a guardarlo. «Era solo un'idea», ritrattò lui. «Scusa». Black Jack e i suoi amici volarono via, lasciandoci soli. Per un minuto restammo fermi là a contemplare il palazzo, così come avevamo fatto davanti a Westover Hall, quel giorno che ormai mi sembrava un milione di anni prima. E poi, fianco a fianco, entrammo nella sala del trono. Dodici troni enormi formavano una U attorno a un grande fuoco centrale, proprio come erano disposte le case al campo. Il soffitto scintillava di costellazioni e anche l'ultima arrivata, Zoe la cacciatrice, solcava la volta del cielo con l'arco teso. Tutti i posti erano occupati. Gli dèi e le dèi erano alti quasi cinque metri. E datemi retta, se una decina di creature sproporzionate e ultrapotenti dovesse mai puntarvi gli occhi addosso all'unisono, beh, a un tratto affrontare mostri vi sembrerebbe una passeggiata. Benvenuti eroi, esordì Artemide. Muuu, fu allora che notai Bessie e Grover. Una sfera d'acqua aleggiava al centro della sala, accanto al fuoco. Bessie ci nuotava dentro felice e contenta, sferzando la coda serpentina e facendo capolino con la testa sui fianchi e sul fondo. Sembrava gradire la novità di nuotare in una bolla magica. Grover era inginocchiato davanti al trono di Zeus, come se avesse appena finito di fare rapporto, ma quando ci vide gridò, «Ce l'avete fatta?» Stava per corrermi incontro, poi si ricordò che in questo modo avrebbe voltato le spalle a Zeus, così chiese il permesso con lo sguardo. «Vai», acconsentì Zeus, ma in realtà non stava badando a lui. «Il Signore del Cielo stava fissando intensamente Talia». Grover trotterellò da noi. Nessuno degli dèi fiatò. Ogni singolo clop dei suoi zoccoli riecheggiò sul pavimento di marmo. Bessie sguazzava nella sua bolla d'acqua. Il fuoco crepitava. «Guardai con un certo nervosismo mio padre, Poseidone. Era vestito in modo simile all'ultima volta che lo avevo visto. Bermuda, camicia hawaiana e sandali. Aveva il volto abbronzato e segnato dal sole, con la barba scura e profondi occhi verdi. Non sapevo cosa provasse nel rivedermi, ma le rughe agli angoli dei suoi occhi si incresparono in un sorriso. A noi, come per dire, va tutto bene». Grover strinse Annabeth e Taglia in un grosso abbraccio. Poi mi afferrò le mani. «Persi, Bessie e io ce l'abbiamo fatta. Ma devi convincerli. Non possono farlo». «Fare cosa?» domandai. «Eroi!» ci richiamò Artemide. La dea scese con grazia dal suo trono e assunse dimensioni umane, trasformandosi in una giovane ragazza dai capelli ramati, perfettamente a proprio agio in mezzo ai giganteschi dei olimpici. Ci venne incontro le vesti d'argento scintillanti. Non c'era nessuna emozione sul suo viso. Sembrava avanzare in una colonna di chiaro di luna. «Il Consiglio è stato informato delle vostre gesta», ci disse. «Sanno che il Monte Otri sta risorgendo a Ovest. Sanno del tentativo di Atlante di liberarsi e delle forze crescenti dell'esercito di Crono. Abbiamo votato per l'azione». Fra gli dei si levò qualche mormorio di inquietudine, come se non tutti fossero soddisfatti di quel piano. Ma nessuno protestò. «Agli ordini del divino Zeus», proseguì la dea, «mio fratello Apollo e io cacceremo i mostri più potenti, cercando di annientarli prima che si uniscano alla causa dei titani. La divina Atena controllerà personalmente gli altri titani per assicurarsi che non fuggano dalle loro prigioni. Il divino Poseidone ha ricevuto il permesso di scatenare tutta la sua furia contro la nave da crociera principessa Andromeda e di farla colare a picco. «E quanto a voi, miei eroi?» Si voltò per rivolgersi agli altri immortali. «Questi mezzosangue hanno reso all'Olimpo un grande servigio. Qualcuno dei presenti può negarlo?» Volse lo sguardo attorno all'assemblea degli dèi, soffermandosi su ciascuna faccia. Zeus con il suo completo scuro gessato, la barba nera ordinatissima e gli occhi che scintillavano di elettricità. Accanto a lui sedeva una donna bellissima, con i capelli d'argento intrecciati su una spalla e un abito che luccicava come le piume di un pavone. La divina era. Alla destra di Zeus, mio padre Poseidone. Accanto a lui, un uomo grosso e tozzo, con una gamba stretta in un apparecchio d'acciaio, la testa un po' deforme e una barba bruna e arruffata, con delle fiamme che scintillavano tra i baffi. Il dio delle fucine, Efesto. Hermes mi fece l'occhiolino. Quel giorno indossava un completo elegante e controllava i messaggi sul caduceo. Apollo se ne stava comodamente adagiato sul trono con gli occhiali da sole sul naso. Aveva le cuffie dell'aipo dalle orecchie, perciò non ero nemmeno sicuro che stesse ascoltando, ma mi salutò alzando i pollici. Dioniso sembrava annoiato e si rigirava un tralcio di vite fra le dita. E Ares, beh, sedeva sul suo trono di pelle e acciaio cromato e mi guardava torvo, affilando un coltello. Sul lato femminile della sala, una dea dai capelli scuri e con le vesti verdi, sedeva accanto a Hera, su un trono di rami di melo intrecciati. Demetra, la dea del raccolto. Di fianco a lei c'era una splendida donna dagli occhi grigi, in un'elegante veste bianca. Poteva soltanto essere la madre di Annabeth, Athena. Poi c'era Afrodite, che mi sorrise con aria complice, facendomi arrossire mio malgrado. Tutti gli dèi dell'Olimpo in un luogo solo. C'era talmente tanto potere radunato in quella stanza che era un miracolo che il palazzo non saltasse in aria. Apollo ruppe il silenzio. Devo dire che questi ragazzi sono stati bravi. Si schiarì la gola e cominciò a recitare. All'oro agliero, ehm sì decisamente, lo interruppe Hermes, ansioso di evitare la IQ di Apollo. Tutti a favore di non disintegrarli? Si levarono alcune mani incerte. Demetra, Afrodite. Aspettate un minuto, ringhiò Ares. Indicò me e Talia. Questi due sono pericolosi. Sarebbe molto più sicuro finché li abbiamo qui. Ares, intervenne Poseidone. Sono eroi valorosi. Non ridurremo mio figlio in pezzettini. E nemmeno mia figlia, protestò Zeus. È stata brava. Talia arrossì e si mise a scrutare il pavimento. Sapevo come si sentiva. Anch'io non avevo quasi mai parlato con mio padre, né tantomeno ricevuto molti complimenti. La dea Atena si schiarì la gola e si sporse un po' in avanti sul trono. Anch'io sono orgogliosa di mia figlia. Ma quanto agli altri due, è a rischio la nostra sicurezza. Madre! Esclamò Annabeth. Come puoi? Atena la zittì con uno sguardo calmo ma fermo. È una sfortuna che mio padre, Zeus, e mio zio, Poseidone, abbiano scelto di infrangere il loro giuramento. Solo Ade ha mantenuto la parola, un fatto che trovo alquanto ironico. Come ci dice la grande profezia, i figli dei tre grandi, come Talia e Persi, sono pericolosi. Ares è uno zuccone, ma non ha tutti i torti. Giusto! Esclamò Ares. Ehi, aspetta un attimo, a chi hai dato dello... Fece per alzarsi, ma un tralcio di vite lo acchiappò per i fianchi e lo rimise giù a sedere. Oh, ti prego, Ares, sospirò Dioniso. Lascia i combattimenti per dopo. Ares imprecò e si strappò il tralcio di dosso. Parli tu, vecchio ubriacone. Vuoi proteggere sul serio questi marmocchi? Dioniso ci scruttò stancamente. Non nutro alcun amore per loro. Atena, pensi davvero che distruggerli sia la cosa più sicura? Non esprimo giudizi, rispose Atena. Faccio solo notare il rischio. Quello che faremo deve deciderlo il consiglio. Io non permetterò che siano puniti, intervenne Artemide. Anzi, esigo che siano premiati. Se annientiamo gli eroi che ci rendono un grande favore, allora non siamo migliori dei titani. Se questa è giustizia olimpica, allora non ne voglio più sapere. Calmati, sorellina, disse Apollo. Cavolo, prendi le cose troppo sul serio. Non chiamarmi sorellina. Io li premierò. Bene, borbottò Zeus. Può andare. Ma il mostro almeno deve essere distrutto. Siamo d'accordo su questo punto? Molte teste annuirono. Mi ci volle qualche secondo per afferrare il concetto. Poi, ebbi un tuffo al cuore. Bessie? Volete distruggere Bessie? Muuu! Protestò Bessie. Mio padre si accigliò. Hai chiamato Bessie l'offiotauro? Papà, continuai, è soltanto una creatura marina. Una creatura marina molto dolce. Non potete distruggerla. Poseidone si agitò sul trono, a disagio. Persi, il potere di questo mostro è davvero notevole. Se i titani dovessero rubarlo, non potete, insistei. Mi rivolsi a Zeus. Probabilmente avrei dovuto avere paura di lui, ma lo guardai dritto negli occhi. Controllare le profezie non funziona mai. Non è vero? Oltretutto, Bessie, l'offiotauro è innocente. Uccidere una creatura innocente è sbagliato. Sbagliato come... come Crono che divora i propri figli per via di quello che potrebbero fare. È sbagliato. Zeus sembrò rifletterci. Spostò lo sguardo su sua figlia Talia. E quanto ai rischi? Crono sa fin troppo bene che se uno di voi dovesse sacrificare le viscere di questo animale, avrebbe il potere di distruggerci. Pensi che possiamo lasciare aperta una possibilità del genere? Tu, figlia mia, compierai sedici anni appena sarà finito questo giorno, proprio come dice la profezia. Deve fidarsi di loro, intervenne Annabeth. Divino Zeus deve fidarsi di loro. Zeus si scuri in viso. Dovrei fidarmi di un eroe. Annabeth ha ragione, disse Artemide. Ecco perché devo procedere con la prima ricompensa. La mia fedele compagna, Zoe Nightshade, è salita in cielo. Mi occorre una nuova luogotenente. E intendo sceglierne una. Ma prima, padre Zeus, vorrei conferire con te in privato. Zeus fece cenno ad Artemide di avvicinarsi. Si chinò e ascoltò quello che la dea gli disse all'orecchio. Mi sentì a salire dal panico. Annabeth, esclamai a bassa voce. Non farlo. Lei mi guardò con la fronte aggrottata. Cosa? Senti, devo dirti una cosa, continuai. Mi si torceva la lingua. Non potrei mai sopportare che... Non voglio che tu... Percy, mi interruppe lei. Stai per vomitare, per caso? In effetti, avevo un po' di nausea. Avrei voluto dire di più, ma la lingua non si muoveva. Non voleva saperne di parlare per colpa della paura che mi serrava lo stomaco. E poi, Artemide si voltò. Avrò una nuova luogotenente, annunciò. Se lei accetterà. No, mormorai. Talia, disse Artemide, figlia di Zeus. Vuoi diventare una cacciatrice? Un silenzio tonito riempì la stanza. Guardai Talia con gli occhi sbarrati, incapace di credere alle mie orecchie. Annabeth sorrise. Le diede una rapida stretta sul braccio, come se si fosse sempre aspettata quella svolta. Lo voglio, rispose lei con voce ferma. Zeus si alzò, gli occhi pieni di preoccupazione. Figlia mia, riflettici bene. Padre, disse lei, non compirò sedici anni domani. Impedirò che la profezia diventi mia. Mi schiererò al fianco di mia sorella Artemide. E Crono non mi tenterà mai più. Si inginocchiò di fronte alla dea e cominciò a recitare le parole che ricordavo dal giuramento di Bianca. Consacro me stessa alla dea Artemide. Volgo le spalle alla compagnia degli uomini. Dopo, Talia fece una cosa che mi stupì quasi quanto il giuramento. Venne da me, mi sorrise, e di fronte a tutta l'assemblea, mi strinse in un grande abbraccio. Io arrossì. Quando si scansò e mi prese per le spalle, dissi Ma ormai per te non dovrebbe essere proibito? Abbracciare i ragazzi, intendo. Sto rendendo onore a un amico, mi corresse lei. Io devo diventare una cacciatrice, Persi. Non ho avuto più pace da... Dalla collina mezzo sangue. Finalmente sento di avere trovato una casa. Ma tu sei un eroe. Sarai tu quello della profezia. Fantastico, mormorai. Sono fiera di essere tua amica. Abbracciò Annabeth, che si stava sforzando di non piangere. Poi abbracciò perfino Grover, che sembrò sul punto di svenire, come se avesse appena ricevuto un buono gratuito e senza limiti per il suo ristorante messicano preferito. Quindi, Talia si portò al fianco di Artemide. Ora, tornando all'Ofio Tauro, disse la dea, questo ragazzo è ancora pericoloso, ammonì Dioniso. Quella creatura è una tentazione di grande potere. Anche se risparmiamo la vita al ragazzo... No! Guardai tutti gli dèi, uno a uno. Vi prego, mettetelo Fiotauro al sicuro. Mio padre può nasconderlo in mare da qualche parte, oppure potete tenerlo in un acquario qui sull'Olimpo. Ma dovete proteggerlo. E perché dovremmo fidarci di te, bofonchiò Efesto? Ho solo quattordici anni, risposi. Se la profezia riguarda me, mancano ancora due anni. Due anni che Crono potrà usare per traviarti meglio, intervenne Atena. Molte cose possono cambiare in due anni, mio giovane eroe. Madre! Esclamò Annabeth, esasperata. È solo la verità, bambina. È una pessima strategia tenere in vita quell'animale. È questo ragazzo. Mio padre si alzò. Non lascerò che una creatura marina venga distrutta, se posso evitarlo. E io posso evitarlo. Tese la mano e un tridente gli comparve in pugno. Un'asta di bronzo lunga sei metri, con tre punte affilate che scintillavano di una luce azzurra e liquida. Garantisco io per il ragazzo e per la sicurezza dell'Ofio Tauro. Non lo porterai sotto il mare. Zeus si alzò all'improvviso. Non ti lascerò un asso nella manica di questa portata. Fratello, ti prego, sospirò Poseidone. Zeus si fece comparire in pugno la sua folgore, un cilindro carico di elettricità che riversò nella sala l'odore intenso dell'ozono. Bene, concluse Poseidone. Costruirò un acquario sull'Olimpo. Efesto mi aiuterà. La creatura starà al sicuro. La proteggeremo con tutti i nostri poteri. Il ragazzo non ci tradirà. Ve lo garantisco sul mio onore. Zeus ci riflettè. Tutti a favore? La cosa mi sorprese, ma molte mani si alzarono. Dioniso si astenne e così fecero Ares e Atena. Però a tutti gli altri abbiamo raggiunto la maggioranza, decretò Zeus. E così, dal momento che non distruggeremo questi eroi, immagino che dovremmo rendergli onore. Che la celebrazione del trionfo inizi! Esistono le feste. E poi esistono le feste pazzesche, fantasmagoriche, straordinarie. Dopodiché esistono le feste dell'Olimpo. Se dovesse mai capitarvi di scegliere, optate per queste ultime. Le nove muse cominciarono a suonare qualunque cosa si desiderasse. Gli dèi potevano ascoltare musica classica, mentre i semidei si davano all'hip-hop o a quello che preferivano. La colonna sonora era sempre la stessa. Niente discussioni. Niente liti per cambiare stazione radio. Solo richieste per darci ancora più dentro. Dioniso faceva spuntare i banchi del rinfresco dal terreno, muovendosi in giro per la festa a braccetto con una bellissima donna, sua moglie Arianna. Era la prima volta che lo vedevo così felice. Nettare e Ambrosia traboccavano da fontane d'oro e vassoi di stuzzichini mortali gremivano i tavoli del banchetto. C'erano calici colmi di qualunque bevanda ti saltasse in testa. Grover se ne andava in giro con un piatto pieno di lattine ed enciladas e il suo calice era colmo di un caffellatte doppio su cui continuava a borbottare come un incantesimo PAN! PAN! Gli dèi vennero a turno a congratularsi. Grazie al cielo avevano assunto dimensioni umane, perciò non calpestarono nessuno per sbaglio. Hermes attaccò bottone con me ed era così allegro che non avevo il coraggio di dirgli cosa fosse successo almeno amato dei suoi figli, Luke. Ma prima che potessi trovarlo lui ricevette una chiamata al caduceo e si allontanò. Apollo mi disse che avrei potuto guidare il carro del sole quando volevo e che se mai mi fossero servite delle lezioni di tiro con l'arco grazie, lo interruppi io, ma sul serio sono una frana al tiro con l'arco. Ah, sciocchezze, rispose lui. Un po' di pratica di tiro al bersaglio nel cielo degli States fa miracoli. Sarà uno spasso. Mi defilai con una scusa e mi confusi nella folla che ballava nei cortili del palazzo. stavo cercando Annabeth. L'ultima volta che l'avevo vista stava ballando con non so quale divinità minore. Poi una voce maschile alle mie spalle disse Non mi deluderai, spero. Mi voltai e vidi Poseidone che mi sorrideva. Papà! Ciao! Ciao, Percy. Sei stato bravo. Il complimento mi mise in imbarazzo. Cioè, era una bella sensazione, però ero consapevole di quanto si fosse sbilanciato, offrendosi di garantire per me. Sarebbe stato molto più facile se avesse permesso agli altri di disintegrarmi. Non ti deluderò. Promisi. Lui annui. Non era facile leggere le emozioni degli dèi, ma mi chiesi se non nutrisse dei dubbi. Il tuo amico Luke non è mio amico, sbottai. Poi mi resi conto che probabilmente era maleducato interromperlo. Scusa? Il tuo ex amico Luke si corresse Poseidone. Una volta fece anche lui delle promesse simili. Era l'orgoglio di Hermes. Ricordatelo, Percy. Anche i più coraggiosi possono cadere. Luke è caduto parecchio male, concordai. Ed è morto. Poseidone scosse la testa. No, Percy. Non è morto. Lo guardai stupito. Cosa? Credo che Annabeth te l'abbia detto. Luke è ancora vivo. L'ho visto. In questo stesso istante, la sua barca sta navigando a largo di San Francisco, insieme ai resti di Crono. Si ritirerà e radunerà di nuovo le forze, e poi tornerà ad attaccarti. Io farò del mio meglio per distruggere la nave con le tempeste, ma lui sta stringendo alleanze coi miei nemici, i più vecchi spiriti dell'oceano. Loro combatteranno per proteggerlo. Com'è possibile che sia ancora vivo? Chiesi. Quella caduta avrebbe dovuto ucciderlo. Poseidone sembra atturbato. Non lo so, Percy, ma sta in guardia. È più pericoloso che mai. Il sarcofago d'oro è ancora con lui. Ed è sempre più forte. E Atlante? Chiesi. Cosa gli impedirà di scappare di nuovo? Non potrebbe costringere un gigante o roba del genere a prendere il cielo al posto suo? Mio padre fece un verso di scherno. Se fosse così facile, sarebbe scappato già da molto tempo. No, figlio mio. La maledizione può essere inflitta per obbligo solo su un titano, uno dei figli di Gaia e Urano. Chiunque altro deve scegliere di portare il fardello di propria spontanea volontà. Solo un eroe, qualcuno dotato di forza, di un cuore onesto e di grande coraggio, farebbe una cosa del genere. Nessuno nelle file di Crono oserebbe provarci, nemmeno sotto minaccia di morte. Luke l'ha fatto, osservai. Ha liberato Atlante. Poi ha ingannato Annabeth costringendola a salvarlo, e l'ha usata per convincere Artemide ad assumersi il fardello del cielo. Sì, confermò Poseidone. Luke è... Un caso interessante. Penso che volesse dire di più, ma proprio in quell'istante, Bessie cominciò a muggire in fondo al cortile. Alcuni semidei stavano giocando con la sua sfera d'acqua, divertendosi a spingerla avanti e indietro sopra la folla. Sarà meglio che me ne occupi, brontolò mio padre. Non possiamo permettere che l'ofiotauro venga usato come un pallone da spiaggia. Fai il bravo, figlio mio. Potremmo non parlarci più per diverso tempo. E un attimo dopo, se n'era andato. Stavo per rimettermi a cercare tra la folla, quando un'altra voce parlò. Tuo padre si è assunto un grande rischio, sai? Mi trovai faccia a faccia con una donna dagli occhi grigi. Somigliava talmente tanto ad Annabeth, che per poco non la chiamai con il suo nome. Athena! Mi sforzai di non tradire del risentimento nella voce, dopo il modo in cui mi aveva trattato al consiglio, ma immagino di non esserci riuscito molto bene. Lei sorrise con freddezza. Non giudicarmi troppo in fretta, mezzo sangue. I consigli saggi non sono sempre popolari, ma ho detto la verità. Tu sei pericoloso. Lei non si assume mai dei rischi? La dea Annui. Te lo concedo. Forse potresti tornare utile. Eppure, il tuo difetto fatale potrebbe distruggere noi così come te stesso. Mi salì il cuore in gola. Un anno prima, io e Annabeth avevamo parlato dei difetti fatali. Ogni eroe ne aveva uno. Il suo, diceva lei, era la superbia. Credeva di poter fare tutto, come sostenere il mondo, per esempio. O salvare Luke. Ma io non avevo idea di quale fosse il mio. Atena, sembrò quasi dispiaciuta per me. Crono lo conosce, anche se tu non sai qual è. Egli è molto bravo a studiare i suoi nemici. Rifletti, persi. Come ti ha manipolato. Prima ti hanno portato via tua madre. Poi il tuo migliore amico, Grover. Ora mia figlia, Annabeth. Fece una pausa carica di disapprovazione. In ogni caso, coloro che ami sono stati usati per farti cadere nelle trappole di Crono. Il tuo difetto fatale è la lealtà, Persi. Tu non sai quando è il momento di limitare le perdite. Per salvare un amico, sacrificheresti il mondo. Nell'eroe della profezia, questo è molto, molto pericoloso. Io serrai pugni. Questo non è un difetto. Solo perché voglio aiutare i miei amici. I difetti più pericolosi sono quelli che sono delle qualità. Presi con moderazione. Rispose lei. Il male è facile da combattere. La mancanza di saggezza è molto difficile. Volevo controbattere, ma scoprì di non poterlo fare. Athena era parecchio sveglia, accidenti. Spero che la decisione del consiglio si riveli saggia, continuò la dea. Ma ti terrò d'occhio, Persi Jackson. Non approvo la tua amicizia con mia figlia. Credo che non sia saggio per nessuno di voi due. E se dovessi mai vacillare nella nostra causa? Mi fissò con il suo freddo sguardo grigio e mi resi conto di quale terribile nemica sarebbe stata. Dieci volte peggiore di Ares e Dioniso e forse perfino di mio padre. Athena non si sarebbe mai arresa. Non avrebbe mai fatto mosse affrettate o stupide solo perché ti odiava. E se avesse scocitato un piano per distruggerti, non avrebbe mai fallito. Persi! Esclamò Annabeth, correndo verso di me. Ma si fermò non appena vide con chi stavo parlando. Oh! Mamma! Vi lascio! Disse Athena. Per ora. Si voltò e si allontanò con passo altero tra la folla, che si divise per lasciarla passare. Ti ha detto qualcosa che non andava? Chiese Annabeth. No, risposi. Tutto... Bene. Mi studiò con preoccupazione. Sfiorò la nuova striatura grigia che avevo fra i capelli, identica alla sua. Un doloroso ricordino del fardello di Atlante. C'erano un sacco di cose che avrei voluto dirle, ma Athena mi aveva svuotato di ogni certezza. Era come se avessi preso un pugno nello stomaco. Non approvo la tua amicizia con mia figlia. Allora, che cosa mi volevi dire prima? Domandò Annabeth. La musica stava suonando. La gente ballava per le strade. Dissi... Io... Stavo pensando che a Westover Hall siamo stati interrotti. E... Credo di doverti un ballo. Lei abbozzò un sorriso. E va bene, testa d'alghe. Così le presi la mano, e non so cosa sentissero tutti gli altri, ma per me stavano suonando un lento. Un po' triste, ma forse anche un poco speranzoso. La musica stava suonando un po' triste, ma per me stavano un po' triste, ma per me stavano un po' triste. Grazie a tutti